Vi ringrazio per essere numerosi perché siete quasi 100, in questo momento so che probabilmente sarete anche di più nel seguito del webinar e oggi vorrei proprio come dice un po' il tema dell'evento, del webinar, fare delle analisi operative seguendo la mia tecnica, quindi fare un'analisi operativa di praticamente trading live attraverso le strategie di price action. Qui davanti a me vedete che ho alcune coppie di valute, sapete che io amo il forex, quindi il mercato delle valute e tutto quello che andremo ad apprendere sicuramente può essere utilizzato sui mercati liquidi, quindi mercati, io preferisco il mercato valutario, il mercato degli indici di borsa e delle azioni più liquide, quindi anche dei singoli titoli liquidi ovviamente, quindi possiamo crearci una struttura di watch list che può andare ad avere degli strumenti venduti nel proprio ventaglio che vengono ripetutamente tradati e che così anche diventa molto interessante perché spesso si trova anche filling con un certo strumento piuttosto con un altro. Quindi io praticamente trado ed è questo che un po' vorrei consigliarvi le maggiori copie di valute, queste sono per esempio l'euro dollaro, il dollar franco, l'euro yen, il dollar yen, l'euro sterlina, il neozelandese sul dollaro americano, quelle che un po' vedremo oggi e in più indici come il DAX, come il CAC Carant, come l'S&P 500, come il Dow Jones, anche l'indice italiano per certi aspetti è molto interessante soprattutto sul grafico giornaliero e quindi insomma questi indici e poi tra le maggiori ovviamente anche titoli sia a livello europeo, italiano ma anche americano. Questo potrebbe essere secondo me a livello introduttivo un input consiglio da darvi per non magari tradare tutto, tra virgolette, poi io sono anche uno che trada molto di tutto, ma cercare di darvi insomma una giusta via, una giusta coerenza e tradare una watch list di strumenti che un po' alla volta possiate riconoscere anche nei movimenti e nelle dinamiche del prezzo. Ovviamente qui adesso andiamo a vedere un po' di tecniche, non vedo comunque ancora le domande e quindi non capisco esattamente come, scusate, no non vedo comunque le domande, probabilmente non saprei, questions non le vedo, quindi vedo solo la chat, questo purtroppo è l'inizio, un attimo devo capire, ma non vedo le domande. Questo è una cosa che mi dà, non so come fare, ma purtroppo non riesco a vederle. Bene, intanto mentre Claudio ricerca di risolvere il problema, questi sono un po' alla diretta, cerchiamo un po' di capire, allora le prime cose che io vado a fare nel momento in cui mi trovo davanti a un grafico, allora prendo per esempio e cancello tutti gli oggetti, la coppia di valute molto molto interessante che è Australia Dollar su Japanese Yen, è una coppia di valute che viene utilizzata dal sottoscritto da molti anni, da molto tempo, è una coppia che vede l'Australia da una parte e il Japanese Yen dall'altra e quindi una coppia molto liquida che ovviamente nelle ore soprattutto notturne ha dei movimenti molto molto interessanti. Allora la prima cosa che io voglio andare a farvi vedere qui nel momento in cui mi trovo davanti a un grafico e sempre in questo momento è meglio sempre avere a che fare con grafici all'inizio almeno giornalieri ed è un po' il mio tipo di trading, voi sapete per chi mi conosce che la mia metodologia si basa quasi esclusivamente su grafici a time frame con candele giornaliere, proprio perché questo va a eliminare di molto il rumore che può andare a formarsi sui grafici intraday. Le mie tecniche sono tecniche che utilizzano l'analisi tecnica di base e soprattutto l'azione dei prezzi, quella che viene chiamata price action. Non so se molti di voi hanno già avuto modo di poter analizzare grafici attraverso le tecniche di price action trading. Io nel 2008-2009 iniziai a fare un blog che è hereforexblog.com e che posso dire di essere stato il primo precursore in Italia di questo tipo di strategie attraverso questo blog dove mostravo un po' quale poteva essere l'analisi del giorno dopo su grafici giornalieri e soprattutto sul mercato forex. Oggi io penso di aver formato tante persone e molte di queste oggi fanno trading con la price action e molti anche la conoscono, quindi sicuramente alcuni di voi hanno conosciuto la price action magari tramite Arduino, magari tramite qualcuno che la conosciute grazie ad Arduino e questo mi fa immenso piacere perché comunque al di là di tutto anche se voi farete poi trading intraday con altre tecniche sicuramente capire un grafico attraverso schemi molto basilari e semplici come gli schemi che utilizzano il price action traders è sicuramente un modo per crescere e per vedere i grafici in un certo modo in modo coerente. Di questo sono molto convinto perché l'ho visto sui miei occhi dalle persone che ho conosciuto in questi anni. Subito vedo che una domanda mi si chiede se unisco la price action all'analisi ciclica sul settimanale con le onde di Elliot, ecco assolutamente no, le onde di Elliot o qualsivoglia analisi ciclica non ha nulla a che fare con l'analisi di price action, quindi non andiamo a fare confusione su cose che non hanno nulla a che fare, ovviamente ognuno poi fa quello che vuole, l'analisi di price action è un'analisi che vede, è la prima cosa, un grafico soprattutto giornaliero o addirittura settimanale su una purezza di significato, quindi deve essere un grafico nudo, pulito, spesso un grafico che non ha nemmeno un indicatore come una media mobile, quindi come vedete adesso il grafico non deve avere nessun oscillatore, deve chiaramente dirci attraverso esclusivamente i rimbalzi e i movimenti forti o di compressione dei prezzi che cosa potrebbe fare nel futuro il prezzo, questo è fare trading con la price action quindi assolutamente non deve essere a, come dire, non deve andare a, non deve scontrarsi con altre analisi che rispetto ma che non sono assolutamente parte di quella che è la price action, ok? il mio consiglio è quello di non andare a mischiare più metodi perché altrimenti diventa molto confusionario e sarebbe perdente, a meno che non siate trader di lunghissimo periodo e che quindi siete ben consci e capaci di filtrare ed avere nel vostro arsenale armi diverse ma che sapete utilizzarle a seconda del tipo di strumento, mercato e periodo ecco, come vedete in questo caso la cosa più importante da fare è capire le dinamiche del prezzo quindi la prima cosa da fare quando vedo un grafico di questo tipo è andare a segnarmi con una linea orizzontale e vedete quali sono i massimi e i minimi più importanti precedenti in questo momento vedete che io, quello che ho segnato sono l'ultima parte quindi dagli ultimi 2-3 mesi in questo caso si parte dal top di aprile fino al bottom di maggio e come notate la cosa interessante penso e che a me ha cambiato completamente il modo di vedere i mercati è che ho segnato questo livello chiave di resistenza e questo livello chiave di supporto esclusivamente sulle chiusure di prezzo e non sui massimi o sui minimi voi sapete che una candela giapponese si legge come apertura, chiusura, massimo e minimo e quindi qui siamo sulla tenuta del livello in area 93,50 e la tenuta del livello in area 96 quindi tutta questa roba qua per dirci che cosa perché in questo modo riusciamo a capire che il grafico dell'oro è in questo momento in una situazione di medio periodo di trading range che vede le due bande che avete visto adesso come bande importanti e poi prendiamo l'ultima parte l'ultima parte ci mostra come il mercato nell'ultima parte ha fatto un forte movimento al rialzo con un piccolo pullback con un piccolo ritracciamento questo è fare trading con la price action è capire esclusivamente queste dinamiche e capire dove sono i punti più importanti dove poter comprare o vendere in questo caso vedete che mi sono segnato un'altra linea la linea rappresenta l'altra area vedete dove il mercato ha chiuso sopra come è successo in questa situazione in questo supporto 93,50 e l'altro supporto diventa l'area 94,75 94,70 che è l'area che in precedenza nel recente passato era area di supporto quindi può essere che nel passato nel momento in cui il mercato rompe il primo swing perché in questo caso purtroppo ha rotto il primo swing quindi il forte movimento che poteva continuare sulla rottura non c'è stato e ha rotto al ribasso il prossimo livello dove cercare un segnale di continuazione long potrebbe essere il livello del 94,80 questo è sicuramente un'analisi tecnica di price action molto molto semplice ma che vi fa capire come analizza il grafico un price action trader quindi senza troppi strumenti senza nemmeno una media mobile in questo caso quindi proprio naked, nudo e attraverso questa visione di livelli e tendenza bullish o bearish riuscire a costruire delle strategie di trading su alcuni segnali di prezzo quindi segnali candlestick che vengono a formarsi proprio su dei livelli importanti questo ripeto è fare trading con la price action quindi non ha nulla a che vedere con con teorie cicliche, teorie di Elliot, GAN o tutte queste cose che ripeto rispetto in maniera al 100% ma che non sono assolutamente quello che io voglio fare ho fatto, faccio e farò sui mercati finanziari ecco, nella mia, in questa introduzione in questa analisi vorrei fare varie analisi ecco perché live trading con la price action per darvi degli spunti di vendita o di acquisto per i prossimi giorni attraverso le mie tecniche quindi vedere dove sono i punti più belli dove si potrebbe comprare o vendere quindi capire in modo abbastanza pratico senza troppa teoria e quindi facendovi vedere come analizzo i grafici quali sono le mie strategie quindi al posto di fare la solita lezione diciamo, la solito che poi non è neanche il solito perché difficilmente io mi trovo a fare troppa teoria ma mi piace sempre andare sui grafici essendo comunque un trader reale mi piace proprio far vedere dove operare, come operare eccetera ma mi piacerebbe fare diciamo dare una view su tanti, su alcuni strumenti anche di quelli che volete vedo una persona che mi chiede per esempio una previsione sull'oro andare a vedere vari strumenti e come li analizzo così che voi capiate senza troppe spiegazioni teoriche facendovi vedere come analizzo un grafico come io da price action trader vado a vedere i livelli come li segno e penso che sia per tutti molto più interessante che andarvi a mettere delle slide e a spiegarvi quali sono le mie tecniche detto questo quindi avete visto che per questo grafico io ho fatto un'analisi di questo tipo quindi nemmeno una media mobile nemmeno un indicatore nemmeno un oscillatore esclusivamente livelli chiave e capire la tendenza del momento andiamo per esempio poi come mi viene chiesto da un utente online di vedere il grafico del gold il grafico dell'oro io per esempio sul gold proprio pochi minuti fa poche ore fa ero short ero short perché c'è stato un buon segnale peccato che il mercato purtroppo mi ha fatto uscire mi ha fatto uscire a break even adesso vi faccio vedere cancello tutti gli oggetti come si può leggere il grafico dell'oro allora vedete che come time frame io preferisco usare un grafici giornalieri quindi questo è un 30 minuti mi sposto dal 30 minuti anche se faccio una breve parentesi sappiate che tutto quello che è prezzo è sicuramente prezzo anche sui grafici a 30 minuti per esempio bisogna sempre dare lo starci attenti perché qualsiasi sia la vostra metodologia di trading la cosa importante è che dobbiamo essere consci del fatto che un grafico intraday è sempre un grafico che come dicevo prima ha più rumore è più sporco dirty charts dicono noi in inglese cioè se voi notate questo grafico e ve lo faccio vedere in maniera che si capisce molto bene guardate quanti spike il mercato ha guardate quanti forti spike mostra il mercato con questi stop hunting questi caccia di stop come vengono chiamati in inglese questi forti movimenti di prezzo che poi riprendono eccetera se io prendo un grafico giornaliero guardate che bello che è il grafico giornaliero guardate i movimenti di trend prima avevano tutti i spike invece guardate come hanno candele belle pulite e senza troppi senza troppi problemi molto molto più semplice e interessante vado a cancellare anche qui la media mobile voglio farvi proprio un'analisi naked un'analisi pulita senza troppi condizionamenti del grafico e anche qui cosa si va a fare ovviamente in questo caso il grafico si trova con il prezzo che è a metà circa del movimento che ha fatto il mercato e quindi quando vedo che il mercato è proprio circa a metà di un movimento direzionale precedente la prima cosa che mi viene a fare è andare a prendermi quello che nella piattaforma di IG è l'indicatore Fibonacci ma in realtà è un Fibonacci parruccato dallo sottoscritto che ha messo solamente le aree al 50% quindi cosa vuol dire ho preso i dati di Fibo in questo modo e gli ho dato solo i parametri a 50 di 50 in 50 per alcune strategie che utilizzo tra cui anche il fatto di capire dopo un forte movimento direzionale il mercato dov'è notate che il mercato dopo aver fatto questo forte movimento è andato a ritracciare quindi ha ribassato proprio di quanto del 50% del movimento precedente è andato molto importante perché spesso succede che il mercato ritraccia di questo dato e qui vedete che il mercato forma quello che viene chiamato supporto chiave cioè un punto dove il mercato non riesce ad andare giù per 1 2 3 4 5 6 7 anche 8 8 volte il mercato ha cercato di ritestare questo livello in giornata tant'è che qui fa anche un falso breakout al ribasso con una chiusura rialzista e non è mai riuscito a chiudere sotto questo ovviamente viene può essere comunque visto come un punto statico molto importante se noi uniamo una linea leggermente dinamica statica di questi punti notiamo che il mercato vedete tiene proprio questo livello come livello chiave importante inoltre se andiamo a prendere il grafico prendiamo questo massimo e lo uniamo con i massimi precedenti notiamo che anche qui abbiamo avuto in passato una figura di di compressione un triangolo compressivo dei prezzi che poi è sfociato in una forte rottura ribassista che ha portato i prezzi a rompere i livelli statici che è quindi questo livello dei 1285 1280 molto importante che è il 50% e che adesso tolgo il fibo per farvi capire che si può segnare tranquillamente sulle chiusure come prima eccolo qua il livello che adesso segno anche con una linea un po' più scura così potete tranquillamente capire eccolo qua e vedete come il mercato nell'ultimo periodo ha fatto proprio questa forte rottura dell'area dinamica statica chiave dove i prezzi non riuscivano a chiudere sopra rompendo è andato a ritracciare sui livelli precedenti che in questo caso diventano anche i livelli di resistenza dinamica dati dall'unione di questi massimi quindi c'è una price confluence una confluenza di prezzo che va a sfociare in che cosa? in un forte segnale in un forte segnale short in questo caso nel momento in cui il mercato va a fare un breakout ribassista di questi minimi allora io quest'oggi da buon price action trader avevo venduto al ribasso ovviamente avevo venduto avevo venduto short sul grafico dell'oro quindi avevo venduto questo livello avevo messo il mio stop loss su questo su questo livello cioè sopra il massimo di ieri ok e mi ero dato come primo punto dove spostare lo stop a break even proprio in 1260 eccolo qua quindi cos'era successo io ieri nel momento in cui ho notato che mi si era formato un segnale di price action che in questo caso era una prima chiusura ribassista dopo varie chiusure rialziste precedenti che era andata a testare i livelli di support ex supporto statico e dinamico e di quindi resistenza nuova statica e dinamica era già da qualche settimana che nella mia community FX Insider su yearforex.com avevo segnalato come punto nel momento in cui aveva rotto qui già da qualche settimana dicevo adesso l'oro è da vendere esclusivamente se il mercato va a ritestare questo livello e se questo livello viene sentito proprio dalla price action cioè cosa lo significa cioè se in quel livello il mercato mi mostrerà segnali bearish ok in questo caso mi ha mostrato una pinocchio bar una candela pinocchio che va a fare un movimento ribassista importante e vi consiglio di andare a vedere anche sul sito yearforex.com sul mio sito ci sono vari video gratuiti dove si può andare a vedere un po' quello che è anche questi segnali per capirli un po' meglio comunque la candela pinocchio è praticamente quel tipo di candela che va a testare o a addirittura fare un falso ritest quindi andare anche a rompere in maniera anche a volte molto molto più importante di questa anche se già questa è sicuramente un ottimo spunto di falsa rottura va a testare quindi i massimi o minimi in questo caso precedenti li ritesta e li fa diventare forse dei massimi nuovi precedenti su un andamento in questo caso ribassista quindi un massimo decrescente che continua a avere la sua corsa al ribasso quando si forma quindi poi una chiusura ovviamente ribassista si forma questa candela pinocchio quindi il mercato è pronto a riscendere quindi andare al ribasso fatto sta che purtroppo oggi io ovviamente mi ero dato come gestione della posizione già predefinita in precedenza che se il mercato avesse toccato dopo la rottura dei e quindi io ho inserito come è nella piattaforma di G una vendita stop su questo livello la vendita stop è avvenuta proprio durante la giornata io non me ne sono accorto ovviamente perché poi io il grafico usando dei grafici daily uso dei grafici che vengono ovviamente controllati un paio di volte la mattina un po' di volte il pomeriggio e poi la sera dopo cena quindi l'analisi viene fatta solitamente intorno alle 22.30 23 della sera e poi la mattina magari un paio di 10 minuti intorno alle 9 quando apre la borsa europea e verso mezzogiorno 11.30 si dà un'occhiata ai grafici vedere un po' le posizioni se sono state aperte eccetera con gli ordini pendenti e poi intorno alle 3.30 quando apre la borsa americana e intorno alle 6 si dà un altro occhio quindi non essere troppo come dire dipendenti addicted dei charts dei grafici ma cercare di lasciare ovviamente l'operazione che corra e però pur avendo una gestione dell'operazione che sia programmata pianificata fin da principio quindi la gestione può essere con dei target definite può essere quindi con degli stop loss sempre definiti ovviamente può essere anche una gestione che viene programmata in trailing stop quindi attraverso l'uso di un management di posizione manuale o automatico e IG ha la possibilità vi permette di fare degli trailing automatici con step che è probabilmente l'unico che ve lo permette quindi ve lo consiglio di provare è molto molto interessante questo e quindi potete automatizzare anche la strategia in trailing oppure manualmente sapete che io per esempio mi ero fissato come primo punto ad andare in trailing questo come secondo era circa questo livello e poi era questo quindi ogni punto veniva poi spostato il mio trailing a seconda appunto di una di una formula matematica che va a gestire tutte queste posizioni in maniera automatica e oggi cosa è successo che il mercato ha toccato questo livello avendo toccato questo livello io cosa ho fatto mi sono spostato il mio stop loss in uno stop a break even più qualche punto tanto da portare a casa un qualcosina e purtroppo poi il mercato è ritornato indietro quindi vabbè non ho perso niente ho preso qualcosina ma non sono riuscito a far andare avanti il mercato è anche vero che il mercato non è andato avanti quindi questa strategia di gestione della posizione è anche una strategia molto interessante perché permette anche di fare che cosa? di avere se abbiamo un'esplosione di volatilità al ribasso e quindi il mercato continua noi saremo a break even e cercheremo di portare più presto il nostro trailing sempre più giù sempre più giù sempre più giù finché il mercato non ci butterà fuori lui perché non ce n'è più da prendere visto che non ce n'era da prendere peccato perché questo movimento era quasi un 1 a 1 di risk reward è stato un bel movimento è stato un peccato perché oggi pomeriggio si prendeva qualche soldino però purtroppo il mercato non ha voluto continuare e quindi io lascio diciamo che il mercato mi dirà poi se nel prossimo futuro questo segnale è un segnale interessante da prendere oppure oppure no quindi se è possibile rientrare ovviamente adesso non entro perché il mercato mi ha votato fuori sarebbe incoerente sarebbe un po' come dire cercare di avere ragione sul mercato sarebbe un po' stile vendetta cercare di avere per forza ragione e invece qua se il mercato poi riparte romperà la trend line e come sappiamo anche le trend line o i supporti e le resistenze sono fatti per essere lotti qui potremo magari vedere dopo questa candela di oggi probabilmente potremo rivedere un altro ricerca di approccio del livello dinamico se questo viene tenuto allora potremo vedere un nuovo impulso ribassista quindi è un se io le previsioni ovviamente le lascio fare agli astrologi a a chi fa il meteo o ai trader che sono forse più bravi di me non lo so però le previsioni sul mercato le lasciamo ad altri cerchiamo sempre di lavorare attraverso un metodo quindi qui potremmo vedere un rimbalzo su questo livello che poi combassa con queste resistenze che ci sono in intraday oppure potrebbe anche essere che se qui il mercato invece spara su avremo un ritorno al rialzo allora cosa succede e quindi io vado a pianificare in questo momento il mio operato nel prossimo futuro se il mercato rialzerà molto su questo livello ovviamente cosa farò cercherò dei ritracciamenti sul livello chiave che poi diventa l'ex supporto che diventa resistenza e cercherò di comprare su questi livelli quindi io mi sono già dato dopo questa operazione che purtroppo è fallita nel suo intento di movimento non è fallito nel senso che ho preso uno stop loss è andata a prendere uno stop in trailing quasi a break even ma una volta che succede questo non cerchiamo di recuperare o comunque ma neanche recuperare di rientrare perché pensiamo di avere ragione il mercato ha detto secondo la nostra gestione di metodo di fare in questo modo e quindi dobbiamo esclusivamente rispettare quello che ci dice il mercato attendere avere la pazienza è un'arma difficile da crearsi questa da costruirsi ma è un'arma molto importante la pazienza nel trading e cercare dei praticamente degli spunti o ribassisti se il mercato rimarrà sotto i livelli dei 1280 nel prossimo futuro o degli spunti rialzisti nel caso in cui il mercato rialzerà in questo momento io sono flat quindi sono ritornato flat dopo lo short che aveva già un trailing impostato appunto come vi ho detto sono tornato flat su questo mercato lo stavo aspettando da molto quindi mi dispiace di essere andato a break even però fa parte del gioco ripeto aspetteremo questo credo che questa sia stata un'analisi molto interessante e anche qui avete potuto ben capire di cosa mi vado a supportare nel momento in cui faccio trading attraverso le mie teorie di price action le mie strategie di price action quindi abbiamo visto audien abbiamo visto l'oro e adesso voglio un attimo rispondere se no vado troppe domande ad alcune domande che mi sono arrivate tra cui che time frame usi come avete visto il time frame che utilizzo di più è il grafico giornaliero è il grafico settimanale mi viene chiesto se uso anche il grafico a 4 ore non lo uso che media mobile usi allora vedete che in questo momento non serviva la media mobile perché tutto era chiaro attraverso lo studio tranquillamente pulito e nudo del grafico quando mi supporto della media mobile mi supporto di una media mobile esponenziale quindi che pesa di più gli ultimi 5 giorni come supporto al mio trading rispetto ai 21 e ed è esponenziale quindi appunto una media mobile esponenziale e 21 periodi dopodiché mi viene chiesto se uso le trendline tendenzialmente non le uso cioè fatto 100 i trade bene o male il 70% di trade vengono e si viene a utilizzare quasi esclusivamente supporti statici e dinamici quindi nel caso specifico del gold spot la cosa interessante è andare su un grafico settimanale ed è quello che vi consiglio fare capire esattamente i minimi più importanti i massimi più importanti e da qui cercare poi sul daily la 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 vostra diciamo la 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 fotografia più 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 interessante in questo caso vedete una volta abbiamo segnato questi livelli potrei dire che un altro livello vedete si trova proprio nel momento in cui il mercato sfocia il rialzo qui fa swing boom fa swing boom quindi questo livello qua che lo sente diventa l'altro livello importante dell'oro questo è come lavora un price action trader pulito senza bisogno di tante medie mobili o cose di questo tipo ripeto l'unica media mobile comunque che uso è la media mobile 21 è una media mobile esponenziale che mi consente di avere un termometro abbastanza definito di quelli che sono nel brevissimo termine i compratori i venditori di come si stanno comportando rispetto alla media di prezzo degli ultimi 20 giorni quindi è molto importante però ovviamente deve essere sempre tenuta in considerazione per prima la price action e quindi i livelli chiave e il trend queste due cose sono la cosa più importante perché se si capisce questo e notate che sul grafico giornaliero è abbastanza semplice riuscire a capire quali sono le dinamiche più importanti dei prezzi se riusciamo a capire queste e non operiamo con sentimenti di vendetta come potrebbe essere in questo caso io ho ma neanche di vendetta perché non ho preso nessuno stop loss ma sono andato a break even su questa operazione ma più che altro un sentimento magari di avere ragione perché adesso magari un qualsiasi trader direbbe eh ma mi è tornato a break even la cosa secondo me l'analisi tecnica qui è perfetta e quindi si cerca per forza di avere ragione e risciorto ancora il gold no devo aspettare magari domani capire se questo livello è veramente un livello importante con la possibilità che il mercato scenda ancora e io perdo il movimento però sapete che nel mercato ci sono sempre nuovi movimenti ogni giorno quindi non dobbiamo per forza attaccarci a una posizione in questo caso il mercato seguendo la mia metodologia quindi non prevedendo il mercato mi ha buttato fuori a break even quindi secondo la strategia del trailing non è andato a continuare il movimento di fortissima direzionalità che ha partito oggi pomeriggio va bene lo stesso sono stato adesso flat aspetterò di capire mi viene chiesto se l'ordine pendente viene inserito in serata sulla piattaforma sì solitamente sì tendenzialmente dopo le 11 e mezza della sera vado a inserire gli ordini pendenti quindi nel momento in cui il mercato è abbastanza poco liquido e quindi diciamo c'è la possibilità di operare a bocce ferme senza nessun senza nessuna difficoltà e soprattutto diciamo si riesce anche a gestire il rischio in maniera più tranquilla perché si ha tutto il tempo avendo grafici praticamente con pochissimi pips di volatilità di riuscire a gestire ovviamente la posizione e il rischio in maniera più facile più a bocce ferme quindi mettersi non so prendere per esempio il grafico dell'oro andare sulla piattaforma dg capire esattamente quanto sto rischiando senza avere troppa velocità e quindi è quella anche quella sorta di andare entrare per forza in un business di mercato in una negoziazione perché si ha come dire la voglia di entrare e soprattutto si ragiona non più con il metodo ma con la pancia quindi non è molto corretto dal mio punto di vista e anche per questo io non amo molto tradare i grafici intraday anche se è sicuramente molto interessante prima si parlava qualcuno mi è stato chiesto il grafico 4 ore sicuramente ecco se si parla di grafici intraday tra i grafici che preferisco posso dire che il grafico 4 ore e il grafico orario sono i grafici che preferisco però più di tutti ovviamente preferisco il grafico giornaliero perché c'è anche un articolo proprio nuovo sulla sezione nuova che IG ha fatto dove ci sono i miei contributi la trovate sul sito di IG trading con Arduino schenato c'è un articolo proprio che parla di una delle basi del perception trader ed è proprio quella di lavorare su grafici daily e weekly ci sono tutte le spiegazioni del perché è più coerente fare questo diciamo che per farvela breve lavorare sull'intraday mi fa più di scommessa quindi se devo mettere i soldi sul mercato preferisco avere una più limpida e chiara vision di quello che è il mercato mi viene poi chiesto servono le candele ai kinashi assolutamente no sinceramente non le neanche mai usate non le neanche mai studiate un pochino insomma ma non assolutamente no quindi non vado neanche a parlare di questo e poi mi viene chiesto l'euro dollaro allora andiamo a vedere per esempio l'euro dollaro che forse ce l'ho qui no non ce l'ho qui andiamo a prendere l'euro dollaro e andiamo a capire che analisi potrei fare sull'euro dollaro attraverso appunto le mie strategie di trading intanto facciamo così prendiamo e cancelliamo tutti gli oggetti ok anche qui mi apre sempre il grafico a 30 minuti anche qui vedete vedete che forti spike che ha il mercato guardate il mercato sul 30 minuti vi sembra a me così a vederlo è un grafico molto difficile guardate qua molto molto difficile se prendo un grafico daily con una con uno zoom simile vedete come invece diventa molto più con dei trend più definiti fate conto che qui una candela è un giorno non è come di là a 30 minuti quindi potete pensare che anche dove vedete degli spike in un giorno avete tutto il tempo di gestire l'operazione rispetto a una candela a 30 minuti che invece è molto più difficile da gestire sia come trailing stop sia come target sia come stop loss che spesso sono fortemente colpiti su operazioni intraday perché spesso sono in punti dove il mercato ovviamente va proprio a come dire a rassettare tutto allora prendiamo il grafico di euro dollaro la prima cosa che viene da fare qui è sicuramente vedere che nell'ultimo periodo il mercato ha mostrato una situazione di una situazione bearish una situazione short una situazione di vendita in questo caso mantengo la media mobile ok? così vi dico anche un po' come la utilizzo e la cosa che mi viene da fare in questo grafico è prendere il grafico settimanale il grafico settimanale perché nel daily c'era qualcosa di chiaro o qualcosa di non chiaro e quindi se non è tutto chiarissimo voglio andare a vedere la figura migliore ancora del daily quindi il grafico weekly e sul grafico weekly mi trovo a vedere che la figura è molto più interessante molto più chiara e tutto mi è più limpido allora se io prendo un un grafico guardate qua euro sul dollaro vedete che mi vado a segnare i massimi in area 139 e mi vado a segnare questo livello in area 1 e 36 e 80 mi vieno a segnare il livello in area 1 35 e 50 e poi c'è un qualcosina qui vedete il mercato ha fatto del supporto delle resistenze e quindi l'area 1 e 36 80 diventa area chiave vado sul grafico daily e vediamo se tutto mi è più chiaro o se c'è da sistemare qualcosina molto bello penso che non ci sia da sistemare nulla se non se uno volesse andare a segnarsi questo livello che è l'area 1 e 38 che nel weekly si vedeva meno eccola qua dopodiché non non vedo nient'altro da segnare c'è questo questo bottom che corrisponde a questo bottom ma di base notiamo che il mercato ha fatto vedete dei swing a ribasso e a rialzo vedete 1 vedete 2 vedete dei massimi decrescenti e quindi la cosa da fare qual è? è cercare di vendere in questo caso sicuramente non di comprare le strategie che utilizzo solitamente sono strategie trend following e quindi quando notiamo che il mercato dopo aver segnato i nostri livelli ha formato dei massimi e minimi decrescenti rimane sotto delle resistenze in questo caso la resistenza proprio questa qui a 35.50 vedete che il mercato ha chiuso l'altro giorno con un segnale bearish e oggi richiude ancora con un nuovo segnale bearish sotto le resistenze questo è sicuramente un mercato che si potrebbe vendere poi vi dico qualche view che potrei avere io se ovviamente il mercato conferma questa sera la candela che si sta formando in questo momento e notiamo come il mercato ha fatto questi swing e che è anche per quello voglio ottenere la media mobile così capite un po' come ne usufruisco rimane sotto questa diciamo questa media di prezzo da un bel po' perché se voi vedete il mercato non ha mai chiuso sopra la media mobile da ormai da questo giorno che è poi stata la giornata di due mesi fa dove Draghi disse che nella riunione della BCE non l'ultima quindi non quella di giugno ma quella di maggio dove disse che molto probabilmente a giugno avrebbe fatto qualche modifica alla politica monetaria europea da questo punto il mercato fece uno spike up facendo una falsa rottura delle massime precedenti andando a ribasso chiudendo per la prima volta dopo qualche tempo sotto la media mobile e da qui ovviamente boom il mercato è iniziato a scendere e non è più riuscito a rimanere quindi a apprezzare a quotare sopra la media mobile ormai da quel giorno quindi dall'8 maggio oggi siamo al 17 di giugno e quindi non è mai riuscito ad andare sopra la media mobile questo ovviamente deve essere un input per noi per ovviamente non andare a comprare l'euro dollaro ma cercare di venderlo quindi cercare di seguire la corrente se la corrente quindi la media mobile mi indica questo il mercato mi sta facendo i massimi i decrescenti in maniera abbastanza buona andare contro la corrente sarebbe forse poco intelligente si può fare non è scorretto si può cercare dei segnali contro la tendenza ma quando il mercato è così chiaro vi garantisco che sulla mia pelle l'ho provato è molto meglio cercare dei segnali di strategie in trend piuttosto che andare contro un mercato che sta andando velocemente al ribasso quindi cattirato come si dice lo sciacquone quindi in questo caso molto bello perché se dovesse chiudere in questo modo potrebbe essere e quindi dovesse chiudere proprio così perché ovviamente poi tutto cambia se il mercato già mi cambia un po' la situazione ma se dovesse chiudere in questo modo si potrebbe configurare una buona opportunità di short anche perché vedete che il mercato qui tocca praticamente tutta quest'area di supporto la sfonda va a fare resistenza poi la va proprio a testare e il mercato va a chiudersi con una candela bearish quindi una price action di tipo bearish quindi la cosa più interessante come spunto operativo che potrei fare io questa sera quindi come ordine pendente potrebbe essere andare a ricercare opportunità di vendita sotto questi livelli con dei stop magari non troppo sopra i massimi ma neanche troppo vicini quindi intorno magari a questi livelli e cercare un movimento ribassista che può avere come obiettivo i primi livelli weekly quindi il livello dell'1.33.80 ovviamente stando proprio attenti a tutto questo livello qui e quindi potrebbe essere interessante che una volta in cui il mercato arriva su questo minimo che non è ancora stato toccato da questa candela andare a ricercare su questo livello 34.87 circa andare a spostarsi con uno stop in trailing quindi non perdere da qui non si può più perdere e dopo seguire il mercato con obiettivo il 33.80 questa potrebbe essere un'analisi di price action molto chiara molto semplice e vedete senza bisogno di avere troppe teorie strane di onde o di previsioni di quello che ovviamente il mercato secondo me è imprevedibile ma lavorando esclusivamente dai dati di fatto che ci dà il mercato la price action è proprio capire il mercato e lavorare sui dati di fatto cercando sempre di gestire bene il rischio quindi stop loss perché questi sono sempre e ci sono in tutti i metodi e nel momento in cui siamo a profitti sapere già come si gestirà l'operazione che è molto importante come vi sto dicendo adesso quindi fare trading vuol dire sì fare una buona analisi ma un buon analista non è per forza un buon trader quindi bisogna fare una buona analisi e poi quando ci si mette nel mercato sapere già quanto si rischia in questo caso la piattaforma Digi è veramente spettacolare da questo punto di vista perché nel momento in cui voi inserite un ordine nella piattaforma vi dice già esattamente quanto rischiate quindi io voglio rischiare non so 200 euro su questa operazione andrò a sistemare il mio size quindi i miei lotti o mini lotti a seconda del stop loss che ho in questo caso per esempio 3530 facciamo diciamo adesso le cifre circa 3595 sono 4050 6070 80 90 sono 65 pip di stop loss per 200 euro di rischio sono circa 3 mini lotti 3 mini lotti e mezzo circa e in questo caso quindi 3 mini contratti di euro dollaro venderò i 3 mini contratti e nel momento in cui il mercato mi andrà qui cercherò di spostarmi in trailing e cercherò di prendere il più possibile cerchiamo di fare sempre come dei maratonetti che seguono il prezzo e quando il mercato si gira usciremo però intanto cerchiamo di prendere il massimo è un po' come ho fatto oggi sull'oro credo che per questo possa essere sicuramente una buona analisi anche qui avete capito vedete vi sto facendo vedere in maniera molto semplice come analizzo il mercato senza andare a fare troppe troppe cose poi abbiamo detto che c'è chi vuole sapere un po' cosa ne penso del DAX e quindi quale potrebbe essere l'analisi operativa sull'indice DAX andiamo a prenderci l'indice DAX e anche qui andiamo a vedere che cosa potrebbe essere come come analisi eccolo qua questo è il DAX uno degli indici più interessanti più bellini che c'è sul mercato a me piace molto e in questo caso direi che la cosa da fare qual è allora intanto quello che io vedo è un trend di bullish quindi un trend adesso non voglio fare una trend line voglio solo farvi vedere un trend che è di stampo bullish quindi sicuramente un movimento rialzista quindi è preferibile cercare possibilità long per quanto riguarda la mia strategia abbiamo questo livello qui che è un livello chiave quindi il livello di ex resistenza che si porta ha fatto un bellissimo trade sul DAX qualche settimana fa nel momento di rialzo con le elezioni eccola qua che ha lasciato un piccolo gap ecco qua il mercato è salito molto ha fatto un po' di ritracciamenti ha tenuto un po' questo livello però devo dire che nell'ultimo ultimo momento il mercato non ha ritestato un vero livello chiave quindi l'idea è quella di ricercare un movimento di ritracciamento che vada verso quest'area ok che è l'area di 9008 9770 ovviamente siamo però su una zona supportiva perché se voi vedete nel momento in cui il mercato ha fatto il massimo qui non è ancora ritestato questi livelli ma qui ha creato una base di supporto quindi tutta la base di supporto e in questo caso prenderei proprio il minimo fatto il giorno di questa candela di price action gli 8606 che poi viene ritestato parecchie volte con una falsa rottura anche scusate volevo dire di 9860 con una falsa rottura tiene il livello quindi questo può essere sicuramente un livello sentito e quindi finché il prezzo rimarrà qui sopra sicuramente è tutta la vita longa nel senso che non la vedo non la vedo in ottica short il DAX questa è la mia analisi questo è il mio modo in cui interpreterei sicuramente adesso non mi metterei a fare trading sul DAX perché segnali operativi reali non ne vedo sì c'era questa falsa rottura non è male come idea se siete entrati long direttamente sulla chiusura io andrei a break even adesso visto il forte movimento che poi ha ripreso e quindi non farei nulla di che potrei dirti che sul DAX andrei a prendermi magari l'S&P 500 e andrei a vedere un po' come si sta comportando anche l'S&P 500 per vediamo se lo troviamo qua possiamo anche beccarlo da qui un attimo allora US500 Cash eccolo qua così ti dico meglio eccolo qui sì quindi se anche l'S&P dovesse mantenersi sopra i livelli di rialzo quindi sopra i livelli dei 1925 quindi non dovesse chiudere sotto questi livelli io il DAX lo vedo come continuazione di tendenza un po' come si sta vedendo molto bene qui dal grafico dell'S&P che comunque essendo un benchmark di mercato correla molto con il DAX e quindi anche il DAX lo vedo come possibilità che vada a rompere anche i massimi precedenti e quindi continui sopra i 10.000 senza problemi sicuramente ripeto adesso non ci sono segnali operativi e soprattutto il livello non è così chiaro come il livello dei 9.770 se devo fare un bel trade sul DAX quindi un bel trade significa un trade che deve essere supportato magari per qualche giorno e può prendere un bel gain un bel profitto andrei a ricercare un segnale d'acquisto nel prossimo futuro tra i 9.800 e i 9.770 questo sicuramente è un livello molto molto buono che se il prezzo dovesse mostrare una falsa rottura una bullish candle qualsiasi cosa che di prezzo mi stia dicendo long su questo livello è sicuramente una conferma che il mercato può salire perché è un livello chiave molto importante farei l'ultima analisi sulla sterina dollaro così capite l'ultima cosa visto che mi è stata chiesta e dopodiché direi che possiamo anche salutarci per questa volta e spero che nel futuro potremo fare altre di queste sessioni perché sicuramente sono molto molto interessanti e a me piace condividere le mie strategie allora cancelliamo tutti gli oggetti così vedete un attimo ecco allora come vedete dopo le parole di Kearney della Bank of England il mercato è salito in maniera fortissima e la cosa ultima che si vede è che c'è stato un movimento forte bullish ok che quindi io segnerei proprio anche con un'area dinamica in questo caso una volta che il mercato ha rotto guardate qua ha rotto ha ritracciato ha fatto falsa rottura ed ha iniziato a fare dei massimi decrescenti eccolo qua e questi massimi decrescenti si possono portare tranquillamente unendo ah scusate eccolo qua unendo i massimi decrescenti si forma questo canale ribassista che guardate qua io questa l'avevo shortata anche qui mi si è chiusa praticamente a break even mi è tornata indietro quindi non ho perso niente mi si è chiusa a break even ho provato lo short da qui e cerchiamo sempre di tutelare i nostri profitti attraverso l'uso del trailing così non ci sbagliamo e nel momento in cui ha parlato Kearney il mercato è salito di una figura e mezza nel giro di poche ore che cosa vediamo poi in questo caso vediamo che ci sono due livelli importanti da tenere monitorati io vedo questo perché nella ribasso del canale discendente abbiamo il punto di resistenza statica che è questo lo segnerei così così lo vedete molto bene l'1.68 1.68 1.68 sapete che i numeri tondi nel mercato forex come negli indici sono molto importanti e questo livello che è l'1.69 ok ah scusate 1.69 che combacia anche con queste resistenze eccolo qua 1.69 quindi in questo momento vediamo che c'è stato un forte movimento long un canale discendente che è quasi più una bandiera tecnica di continuazione adesso che ovviamente ha rotto perché poi ripeto non si può mai prevedere ma si può utilizzare i dati di fatto per usarli come modi per fare trading almeno questo è il mio metodo non facciamo previsioni ma lavoriamo sui dati di fatto e l'idea è quella ovviamente di non shortare anche se siamo su dei livelli di resistenza tac non mi interessa in questo caso sicuramente il mercato come avete visto è un po' ritracciato ricercare un segnale long quindi tra tutti quelli che ci sono nella price action o a 1.69 o se il mercato dovesse continuare a ribasso l'altro livello è tra 1.68 e 1.68 e 30 quindi due punti dove cercare dei segnali long sono questi due e da qui si può sicuramente lavorare con cognizione di causa e cercare dei movimenti di un certo tipo questa è price action molto semplice utilizzando esclusivamente vedete le dinamiche che mi sta offrendo il prezzo niente di più niente di meno qui non ci sono falsi come dire lagging indicators o oscillatori trendy come si dice che vanno di moda oggi e poi domani non più qua c'è solo il prezzo il prezzo ci riceva questo in passato ci riceva oggi questo e ci dirà sempre la stessa cosa quindi il mercato o sale o scende o lateralizza se non riusciamo a riuscire a vedere queste situazioni di mercato riusciamo a interpretarle riusciamo a utilizzarle a nostro favore vedrete che non avete problemi nel fare trading e soprattutto non dovete avere fretta non dovete essere troppo aggressivi nel vostro money management dovete fare mattone dopo mattone perché dopo mattone si costruisce il patrimonio se utilizzate grafici giornalieri pianificate i vostri trade lavorate da traders seriamente da professionisti vedrete che i soldini li portate a casa e nei momenti di drawdown i drawdown sono ampiamente affrontabili soprattutto dal punto di vista emotivo perché vi permette queste strategie vi permettono di non fare trading in maniera ossessiva e soprattutto con una modalità sia di money management che di gestione del rischio che emotiva che di gestione della posizione molto più a bocce ferme molto più calma e lavorando proprio con il trading proprio come un vero business direi che ho detto tutto quindi bevo un goccino d'acqua perché ho parlato tantissimo non vedo altre domande sinceramente quindi penso che siamo abbiamo finito spero che questo webinar dedicato al live trading diciamo attraverso la price section e fare trading non significa solo fare click ovviamente fare click è una delle varie cose che si fa quando si fa trading ma fare trading significa fare l'analisi capire dove comprare dove vendere e fare click ok bene direi quindi che vi saluto vi saluto tutti siete stati tanti abbiamo superato i 100 siamo andati veramente oltre i 100 in maniera abbondante ringrazio Claudio per l'introduzione nuovamente ringrazio ancora IG per questa opportunità vi vi consiglio di dare un occhio spesso alla parte del sito di IG trading con arduino schenato dove ovviamente periodicamente andrò a fare degli articoli sia video sia scritti dove andrò a cercare di di approfondire in maniera generale e in maniera totale tutte le tematiche riguardanti le mie strategie di price section quindi vi ringrazio vi saluto e ci vediamo presto grazie a tutti a me di a me di a me a me di